Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Gita, oggi un piccolo messaggio un pochino per notiziarvi di quello che sta succedendo nell'ultimo periodo, non ho più fatto live, ho fatto due settimane di ferie, tutt'altro che riposanti perché ho avuto il famigerato trasloco, perché ho avuto la malsana idea di comprare casa e preannuncio subito mettendo le mani avanti che non farò home tour, room tour e balle varie, la casa non ha nulla a che fare con l'attività sul canale, nel senso che lavoro normalmente come ogni persona normale quindi non è correlato alla mia attività su YouTube, ci sono sacrifici, ce ne saranno insomma, e ho dovuto aspettare in primis che mi attivassero la connessione, fortunatamente abbiamo l'accento, poi dovrò testare effettivamente se va nelle live e poi ho dovuto traslocare tutta la roba, più di una decina di viaggi tra una casa e l'altra, scatoloni, mi hanno montato vari mobili e poi vabbè adesso avendo anche un minimo anche di giardino sono un pochino più peso nelle varie attività da fare in casa ed è il motivo per cui non sono stato presente se non con i video soliti che quelli non sono mai mancati. Mi ci vorrà ancora un attimino per riprendere un pochino il ritmo, anche ricominciando lavoro adesso riuscire a capire cosa riuscirò a fare, insomma che tempo mi richiederà, ci vorrà un po' di tempo insomma però so che comunque voi avete aspettato, avete visto i video, comunque mi avete lasciato i commenti quindi vi ringrazio e mi scuso ancora per questa assenza delle live però io arrivavo a sera veramente distrutto in questi giorni tra tutto, poi adesso tra l'altro fa anche caldo, ho dovuto chiudere la finestra alla porta, la finestra poi una serie di case qui magari tutti hanno il cane, quindi inizia qualcuno a porconare in giardino, iniziano i cani a baiare insomma e mi arriva la suocera improvvisamente, quindi ecco cerco un attimino di riabituarmi, sto ancora aspettando i mobili erotti che mi dovrebbero essere spediti la settimana prossima, quindi riesco a dare lo studio, al momento ho usato i mobili vecchi e niente ragazzi, questo era un piccolo aggiornamento su quello che ho passato nelle ultime due settimane, adesso c'è tutta la menata dello diciamo disattivare le vecchie utenze della vecchia casa, poi tecnicamente non dovrei più farne. La connessione è andata bene per il rotto della cuffia, infatti dovremmo testare la live perché quando poi mi hanno richiamato per confermarmi l'appuntamento del tecnico mi hanno detto guarda abbiamo, ho preso diciamo la tua richiesta un po' alla leggera, ho notato che nella zona dove sei non c'è l'accento, gli ho detto guarda a me serve fare, lo vedo perché tu scarichi tantissimo, hai scaricato un terra in un mese, è ok, proviamo a mettere la stessa antenna, il tecnico è arrivato, mi ha detto guarda qua è satura, cioè io gli ho detto ma è un'utenza, è sempre la stessa, non so però proviamo, ho provato mi fa prendere un po' meno di dove eri prima, io fino adesso problemi non ne ho avuti, ho già visto sui vari gruppi del paese, il mio nuovo paese adesso, che è Teglio, Patria dei Pizzoccheri che tutti voi sicuramente conoscete, Teglio, diciamo che leggendo sui vari gruppi tanti lamentano il fatto che l'antenna dove si connettono tutti con EOLON non prende l'accento, non dà l'accento, io ho stato zitto ovviamente, non ho detto che l'accento la dà a tutt'altro paese vicino, però ho avuto questa fortuna qui, sta avendo qualche problemino la connessione perché si vede che ogni tanto barcolla un po', non si stacca però cala un po' perché secondo me la cella è bella piena di gente che usa l'accento, quindi niente, si spera l'aumentino, al momento dico scaricato tutto quello che mi serviva va tutto bene, testeremo prossimamente magari quello che è il discorso live. Per il momento vi ringrazio, vi invito a lasciare qua sotto i vostri commenti, il vostro saluto, insomma qualsiasi cosa, ormai sto imparando un sacco di cose anche di giardinaggio, ormai la mia vita è radicalmente cambiata, è reversibile il cambiamento e ho dei video da registrare, sono veramente troppo stanco in sto periodo, fortuna che ne ho. Un saluto a tutti, una buona giornata a tutti voi e alla prossima e ciao ciao!